Per un'istituzione che si svuota, un'altra che deve essere riempita, i temi anti-europei saranno centrali nella sua campagna? Ma non si svuota nessuna istituzione perché al di là dello spot che è stato consumato, le province restano con tutte le difficoltà e con tutte le mancanze di chiarimenti che questo nuovo provvedimento comporta. Ma al di là di questo aspetto che è un aspetto di carattere istituzionale ho ritenuto giusto questa mattina partire con la presentazione della mia candidatura alle elezioni europee che è stata fortemente voluta dal nostro leader nazionale l'onorevole Giorgia Meloni e certamente è una candidatura di territorio anche se è una candidatura che viene dalla militanza e da una profonda convinzione nel progetto politico di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per portare in Europa la voce del nostro territorio, delle nostre idee e la tutela della nostra sovranità nazionale perché è evidente a tutti che non è una questione di carattere ideologico ma l'Italia in questa comunità europea vive una situazione di profondo disagio che riscontriamo ogni giorno nel vissuto dei nostri cittadini. L'Europa non è stata una opportunità per gli italiani perché si è consumata soltanto una unificazione monetaria. L'Euro del Marco tedesco noi ci batteremo affinché la nostra rappresentanza parlamentare anche insieme ad altri movimenti che nelle realtà europee penso innanzitutto a Marine Le Pen in Francia stanno riscuotendo dei grossi successi proprio perché stanno denunciando questo cattivo funzionamento della Unione Europea e stanno battendosi per l'affermazione di quelle che sono le identità nazionali. Noi abbiamo già selezionato in provincia di Salerno una serie di temi, quello del turismo, quello dello sviluppo, quello della valorizzazione delle nostre tradizioni e quello dell'ambiente che devono essere l'aspetto centrale dell'impegno politico alla comunità europea, in Parlamento europeo perché le nostre piccole e medie imprese che possono fare di questo sistema di eccellenza, che i nostri territori meridionali sono capaci di esprimere un punto di riferimento per lo sviluppo attraendo gli ingenti finanziamenti che ci saranno sulla nuova programmazione 2014-2020. Naturalmente dobbiamo mettere in campo delle candidature e Fratelli d'Italia lo fa sicuramente che vadano a coniugare questa visione complessiva e nuova dell'Europa con il valore del territorio.